Il 27 maggio! Rocky e Sisi non sono le uniche star. Anche i ragazzi sanno come muoversi. Tai! Sono Tai Blue! Chiedimi l'amicizia! Flynn! Parlate piano, sto cercando di dormire! E Deuce! Perché pensi che io abbia sempre un secondo fine? Ok, ecco il secondo fine. Sono pronti a scatenarsi! Ma è a posto! Ci vogliono due ore ogni mattina! A tutto ritmo! La nuova serie, dal 27 maggio alle 19.15, a Disney Channel.